Ragazzi, stavolta il punto non è solo essere veloci, ma essere lucidi, cosa che secondo me a voi vi manca. Che cosa ho fatto? Sono riuscito da Vin Diesel a far mettere la macchina. Oh, non è stato facile, lei mi ha detto dato proprio perché trappelati se capiamo, poi è una alla mano. E mi ha dato una delle due macchine, venite a vedere. Quentin, ho preso quella col colore più sobrio, però mi ha detto lui deve si adatto per questo tipo di vetture. Perché questa è per il muro del vento, qui arriva il vento e va via. La macchina, mi faccio vedere dentro, Quentin, mi è qua, fai vedere ai nostri amici del canale YouTube. Questa è una macchina esemplare unico, modificata, ce l'ha modificata in giardiniere amico nostro. Guarda che roba, tutto di vimini, ma vimini, 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 vimini. Vedi? Quattro posti, ora i portieri perché sono uscito da corsa, ce l'ho i portieri a casa. Qui ci puoi mettere un bagaglio, un bagagliaio comodo, ci puoi mettere la bruschetta, le saccicce, la roba. Questa da 0 a 100 ci mette una mezz'ora, in 40 minuti se c'è traffico. Questa è proprio, ecco, è una macchina sobria e la vedrete nel nostro film uno, anzi, due e vedrete che prestazioni che c'ha, pensa un po'. Noi non siamo come Van Diesel, noi siamo a benzina, non ci prega niente se consumiamo. Ragazzi, vado che ho mille impegni e Roma ti trappolo. Vado, vado. Peppe Spini! Uno, anzi, due. Dal 9 aprile al cinema.